gabbia rinnova fino al 2029 ancora milan e inter accumulati sul problema curve morata flop seconda gazzetta dello sport infine gazzetta in lutto per l'autaro di questo parleremo dopo la sigla ciao a tutti benvenuti a questa nuova puntata del calcio secondo giovanni vi ricordo di mettere un like al video vi ricordo di iscrivervi al canale è completamente gratuito basta cliccare stati iscriviti e attivare la campanella in questo modo potete essere aggiornati sull'uscita dei nostri video sulle nostre live martedì giovedì sera sono i nostri pre post partita di due tre partite del milano vi ricordo inoltre che potete interagire con il canale tramite la chat durante la trasmissione dei video e a fine video lasciando vostro pensiero vostro commento nella sezione appunto commenti a cui cercheremo rispondere il prima possibile ricordo che inoltre potete aiutare il canale tramite donazioni abbonamenti per donazione a vostro cuore gli abbonamenti a partire dal 99 centesimi al mese ci sono 5 tipologie abbonamenti uno sceglie quello che preferisce logicamente dopo aver detto questo passiamo a notizie di oggi va bene innanzitutto passiamo con il rinnovo di gabbia del contratto che sarà allungato fino a 2029 quindi prima ancora cinque anni con un ingaggio portato da un milione a un milione 800 mila di euro quindi sicuramente un riconoscimento per quello che gabbia ha dimostrato in questo ultimo anno per il miramento notevole per essere diventato uno dei puntelli principali della difesa del milano per quanto riguarda il minano appunto mentre sto registrando c'è la conferenza stampa di fonseca per partita contro l'empoli in cui parla che i problemi difensivi sono noti e riconosciamo non sono uno che chiude gli occhi stiamo lavorando però questo tempo ha detto che la difesa del milano è la quinta difesa in campionato quindi c'è alcune volte di una difficoltà facciamo un mostro è vero che siamo la quinta difesa campionato però l'empoli è la quarta secondo me il milan se vuole puntare come diceva fonseca mi ce lo scudetto non si può permettere avere la quinta la quinta diciamo difesa del campionato ma deve fare sicuramente molto meglio anche perché ci sono le situazioni veramente particolari che ecco non sono più tollerabili perché io posso capire tutto diciamo posso capire alcune volte che da una simila testa similati schemi e posizioni eccetera ma siamo alla ma è 13 giornata per il milano più 5 di coppia siamo 18 siamo partita la prossima e sinceramente ecco non è che a livello difensivo si brilli anche perché poi in attacco abbiamo fatto 20 gol si però ecco insomma siamo anche lì insomma quarta quinta attacco alla serie a considerando che abbiamo una partita in meno quindi non è che abbiamo dei numeri eccezionali per il momento logicamente la gazzetta dello sport non ha preso non ha preso un secondo per definire in morata un flop beh se è morata un flop ce ne sono tantissimi altri allora se mi guardo in giro se guardo alla juventus c'è cup minus attualmente che è un flop non parliamo di darglas lui se non dovrei dire scusate anche un messa da roma che fino a ieri è stato disastroso ieri ha segnato però insomma ci sono tanti flop in giro quindi senza andare poi ecco a scomodare morata morata sappiamo che non è la prima una punta centrale tradizionale è una punta che partecipa molto alla manovra conseguenza non ci si aspetta che faccia 20 gol questo questo è quanto che però aiuti gli altri giocatori a entrare in campo a entrare verso entrare nella fase offensiva e a segnare per quanto riguarda poi la situazione che già avevo sintonato ieri la curve le curve questo documentazione diciamo del riguardante le curve di inter e milan sono aggiunte sul tavolo del procuratore federale chine e oggi ci faccio finanza che apre con un articolo un titolo indagine ultra sosporacchio articolo 4 per inter e milan chine al lavoro a 60 giorni di tempo poi potrebbe chiedere altri 40 per riferimenti e qui ecco punto si parla di articolo 4 quello che tutela la lealtà correttezza e probità delle squadre e può portare a possibili sanzioni e qui si inizia di nuovo a parlare di inter e milan e quando come ho detto ieri situazione ben diversa perché se dal lato il procuratore viola di milano dice che casualmente i club sono danneggiati a questa vicenda guarda un po che caso che caso è vero dall'altra parte abbiamo visto che ci sono tesserati e tutti in zaghi allenatore che è stato contattato dagli ultras per farsi ricapitare i biglietti per fare intercedere su ma verso marotta c'è stato c'è la novlu che ha partecipato a cena addirittura con queste persone c'è stato scrimiare nex come materazzi lo stesso in zaghi del senso zanetti come ci ha detto ieri ma prima di tutto che da 30 anni si va aiutas vanno e vengono da piano gentile e quindi niente abbiamo visto anche si circola in rete una solo una spezione della trasmissione non so se sia su sky o qualcosa del genere in cui gli ultras dell'inter entra in trasmissione e fanno i cori verso con in zaghi intervistato per per avere i biglietti quindi comunque una sempre una forzatura di questo d'altra parte abbiamo solamente calabria che dice che ha contratto luci per parlare dei problemi della squadra di spogliatori di rendimento quindi situazioni come già ho detto ben diverse e questi titoli ancora cui vengono associati in termina nello stesso modo a me non piacciono ma a proposito di titoli di giornali eccetera oggi la zello sport ha aperto attorno alle 11 con il lutto a braccio cos'è successo guardate un attimo questa foto ecco questa è la foto che rappresenta la gazzetta verso le 11 un quarto di stamani in prima pace primi titoli ben tre titoli sull'inter in cui si parla di marotta sorprese dell'uso per l'assenza di l'autaro tra i candidati per il best man's player della fifa poi articolo più generico della gazzetta beffa l'autaro la fifa non lo inserisce tra gli undici candidati per the best man's player e poi infine addirittura abbiamo il vice direttore agresti la gazzetta dello sport che fa un video di circa un minuto e mezzo in cui dice cosa c'è dietro l'incompensibile esclusione di nato quindi una minaccia nemmeno una minaccia c'è un intrigo internazionale creato dalla fifa che ricordiamoci al certo signor infantino tifoso interista a capo che non ha nominato l'autaro martinez fra i degni competitori per i best man's player della fifa ora io sinceramente a me viene da ridere di queste situazioni cioè se notarlo non è stato inserito punto vuol dire che c'erano altri giocatori che non meglio di lui o l'asolo martini se uno scorso si ha vinto il campionato italiano è stato il miglior marcatore ha vinto la coppa america l'argentina è stato il miglior marcatore entrando sempre alla panchina ricordiamoci questo ma poi nel champions league agli ottavi è stato eliminato ricordiamoci che a livello internazionale più che la vittoria coppa america dove generalmente sono due barra tre le nazionali che competono quindi l'argentina brasilio uruguay e giù di lì e il campionato italiano che non è sicuramente non è il campionato top vengono considerati soprattutto chi ha risultati o a livello di nazionale quindi campionato d'europa in particolare modo oppure campionato del mondo oppure appunto champions league o premier o liga queste sono le cose che vengono prese diciamo a modello per nominare dei giocatori guardiamo un po chi è stato nominato per questi 11 adesso vado a cercarlo ecco questi 11 io solamente su uno o dei dubbi poi il resto sinceramente non vedo che la utile sia più forte di questi allora abbiamo preferito dunque la fifa ha preferito inserire i nomi di carvajal holland valverde virz bellingham mappè yamal messi rodri cross e vinicius ora io a parte messi che sinceramente lo vedo fuori posto perché messi sinceramente ormai è un ex giocatore quasi anche se ha portato l'argentina a vincere anche lui la coppa america il resto sinceramente non non vedo niente di strano anzi forse ci mancherebbe forse qualcun altro che potrebbe dare qualcosina in più io ad esempio avrei messo anche nico williams che sicuramente per me quest'anno ha fatto meglio di doutor martins però come detto e quindi niente quindi non vedo tutto questo grande intrigo internazionale vediamo cosa dice marotta logicamente marotta ecco qua sorprese deluso ci vuole più rispetto dice vediamo e sorprendente deludente che dottor martins non sia stato considerato tra i candidati the best men's player della fifa dopo una stagione eccezionale le sue prestazioni straordinarie ha contribuito a portare l'interno traguardo storico la nazionale argentina la vittoria della coppa america in entrambe le competizioni è stato oltretutto il migliore organizzatore del torneo l'altaro merita il più rispetto riconoscimento maggiore questo segnale negativo dovrebbe essere primati i giocatori che si distinguono in modo così importante speriamo che in futuro vengano dato il giusto riconoscimento a chi come lotaro continua a brillare sul campo io direi che gli altri 11 che sono stati nominati e anche alcuni esclusi hanno brillato hanno portato dei risultati notevoli non solamente l'altaro martins ha fatto questo ma poi l'altaro martins è arrivato settimo in pallone d'uolo quindi probabilmente forse quello che ha fatto non è stato ritenuto a livello di altri che hanno fatto molto di più e così è veramente risibile il video fatto dal vice direttore a gazzetta gresti che probabilmente non aveva nient'altro meglio da fare che ipotizzare un complotto della fifa perché ha nominato in questi 11 ben 5 giocatori della madrid che casualmente sono anche in parte giocatori nazionale spagnola campione d'europa a madrid ricordate ricordiamoci vincitore della coppa intercontinentale vincitore della liga vincitore della champions league quindi c'è l'intrigo veramente siamo a livello di ridicoli e che la gazzetta dello sport che capisco che è uno dei sponsor dell'inter capisco che ecco tante cose e poi non ci lamentiamo se the times prende in giro la gazzetta dello sport perché sinceramente con vice direttore si scomodi perché l'altaro martins non è stato messo fra gli 11 dei best player della fifa è veramente ridicolo gli dico perché pallone d'oro non hanno vinto tantissimi giocatori che sono meritavano mi parlo solamente del mina parlo di baresi di maldini tanto per dire ne due insomma ecco giocatori che si sarebbero meritato solamente pallone d'oro che non hanno mai vinto ma tanti altri ma sia in italia che nel mondo insomma ecco quindi sono premi secondo me che è giusto dare importanza dovuta cioè pari a zero un giornale che si espone così in riferimento a un giocatore di una squadra perché secondo me è ridicolo è sintomo di sicuramente di non equilibrio è sintomo di non super partes e questo ribadisce quello che the times ha detto sulla gazzetta dello sport con questo abbiamo finito vi ricordo di mettere un like al video vi ricordo di iscrivervi al canale noi ci vediamo domani no domani sera le post partita attorno alle 22 di milan empoli e niente vi auguro una buona giornata e forza mina sempre da giovanni grazie a tutti grazie a tutti